L'Hancook Ventus S1 Evo 3 è un pneumatico a provato rigomma. Scopriamone caratteristiche, pregi e difetti. Il battistrada presenta scanalature a incastro, che aiutano a prevenire l'aquaplaning sulle superfici sdrucciolevoli. Il numero di tasselli esterni è stato aumentato per migliorare la tenuta in sterzata sull'asciutto e ridurre il rumore. La mescola Aqua Pine contiene materiali grezzi come resina estratta dalle conifere e olio vegetale, mescolati seguendo tecnologie avanzate. L'aderenza in curva è infine assicurata dalla cintura di rinforzo Aramid Hybrid, posta al di sotto del battistrada, che garantisce un ampio contatto con la superficie in ogni condizione. Per concludere, l'Ancook Ventus S1 Evo 3 garantisce eccellente manovrabilità a velocità elevata e ottime prestazioni sul bagnato. I risultati dei test sono Per autobuild, discreto Convincente su strada bagnata ed asciutta Breve spazio di arresto Sicurezza nella prevenzione dell'aquaplaning Chilometraggio limitato Per ADAC, discreto Molto buono per risparmio di carburante Buone le prestazioni su strada asciutta Debolezze sul bagnato